cari amici oggi vi propongo la recensione di una penna particolare insomma la vedete già qua nella nella sua rappresentazione sul cartonato della della sua confezione stiamo parlando di Conklin e più precisamente vedete insomma qua è subito facilmente riconoscibile appunto il suo il modello creation the filler niente si tratta di una penna che mi ha sempre incuriosito e che comunque ha una sua valenza storica perché sul finire dell'ottocento appunto Conklin diciamo prevettò questo sistema molto molto valido per la ricarica dell'inchiostro nella nel suo osservatoio nella nella parte vedete qua deputata al contenimento dell'inchiostro e niente adesso andiamo a vederlo un attimo per una volta vi faccio anche lo spacchettamento che in questo caso può essere abbastanza interessante perché hanno una bella confezione la vediamo qua ok chiaramente un finta pelle però tutta cucita bene bello scatto eccolo qua qua c'è un po tutta la storia insomma le varie cose se tolgo il lettino qua ulteriori o delle spiegazioni il corso dove l'ho comprata il mio solito negozio torino penna qua torino ok l'ho scelta ce n'era in diverse colorazioni c'è anche tutta completamente in metallo io ho scelto mi piaceva questa qua in resina screziata blu no con una screziatura nera un attimo la scatola allora la penna è questa andiamo a vederla un po più da vicino eccola qua allora al tatto insomma una bella sensazione ben lucidata una grossa la retta qua la cosa famosa che è rimasta è la clip che è veramente si dotata di una molla qua insomma lavora bene perché spesso le clip non lavorano affatto bene mi sembra ben assemblata insomma presta tutta la sua così praticità e bellezza insomma vedete è una bella penna che presenta bene ok ho provato già le prime volte allora ce l'ho già da qualche anno ma non l'ho mai provata faccio proprio la prova con voi allora se innesto il cappuccio diventa un po squilibrata ok diventa non tantissimo però un po lo diventa quindi va detto io però non amo scrivere con il cappuccio calzato quindi lo lasciamo qua però va benissimo perché è una penna abbastanza abbastanza importante quindi non non ho bisogno di particolari vederla con un'altra penna molto conosciuta di una dimensione media o qua che ne so una ginao 450 vedete che siamo in quel range di dimensioni di penna sono penne medie ok ok tornando alla nostra concline allora ecco io ho sempre adorato questo questo sistema a mezzaluna crescente no dove dove praticamente bisogna ruotare questa parte della penna in resina che è una sorta di blocco di sicurezza per evitare uno schiacciamento del sistema di caricamento che potrebbe far riuscire tutto l'inchiostro quindi vedete che ha un binario in questa zona ecco adesso si vede bene c'è un binario lo devo far venire sopra vedete ho ruotato mi viene in asse alla mezzaluna e questo mi consente di vedete schiacciare la mezzaluna e si contrae diciamo il sacchetto del contenimento dell'inchiostro con un sistema suo dove lo schiaccia contro la parete e per depressione mi tira sull'inchiostro al momento che io carico la penna chiaramente devo metterlo poi in posizione di sicurezza quindi ruoto di nuovo quindi da questa situazione diciamo dove ho vedete dove sono in asse con una mezzaluna lo ruoto e lo porto in sicurezza vedete se schiaccio non non accade nulla ha un sapore retro vintage che mi è sempre piaciuto la vado a caricare sapete che amo caricare le penne con inchiostri che parlano la stessa lingua cromatica quindi lo carico con un blu carcadè dei miei indelebile e niente la carico proprio per la prima volta vediamo cosa succede allora quindi come ho detto prima mi riposiziona con ecco qua mi sono riposizionato vedete la penna adesso può caricare schiaccio immergo la penna la lascio rischiaccio vedete che la penna mi istituisce l'inchiostro lo faccio un paio di volte per far andare un po' far lavorare tutto il sistema a questo punto faccio la carica definitiva schiaccio bene immergo mollo lascio qualche secondo così il serbatoio ha da riempirsi tutto estraggo la penna e chiaramente la pulisco con una pezzolina leggermente inumidita ok a questo punto ha funzionato perfettamente tutto il meccanismo togliamo l'inchiostro e andiamo a vedere allora eccola qua poi inutile dire allora il penino è questo in acciaio ok lo vedete taglia M quindi abbastanza generoso ogni tanto mi piacciono questi pennini un po' più generosi il penino sicuramente non è fatto in casa allora è una prima inchiostrazione vediamo che succede io vado a dare un po' di inchiostro quindi mi riporto con la mezzaluna qua gli spingo un po' di inchiostro ok ok stavolta sembra partire vediamo un attimo ok ok primissima impressione di scrittura ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, funziona tutto bene, devo ammettere che un po' sento, mi batte qua, quindi un po' di fastidio mi dà proprio il sistema di rotazione qua, sulla mano. Quindi un po' lo sento, non tantissimo, però un po' sì perché non mi cade perfettamente nel vuoto, mi batte un po' sulle dita qua, sull'indice. Ma questo da mano a mano può dipendere. Una mano leggermente più grande va nel vuoto e non lo sentirei. La svasatura qua è apprezzabile perché evita scivolamenti e non sento nessun gradino sgradevole dove ha, diciamo, il sistema di chiusura, quindi la filettatura. Quindi la pensione è ottimale, ripeto. Ho solo un po' di fastidio perché qua mi batte sull'indice. La scrittura, allora, la scrittura è come al solito, insomma, una penna andrebbe usata per qualche settimana prima di dire una parola definitiva. Allora, si scrive molto bene, è gradevole. Lo trovo un po' duro sicuramente perché è una roba, cioè, vedete, qualche, diciamo, contrasto lo fa, ma è un M, quindi c'è fatto già con un pennino decisamente generoso. No, è un pennino preciso, diciamo, non lo trovo, non pattina particolarmente bene, ecco, non ho quella sensazione di scioltezza che alcuni pennini, anche rigidi, riescono a regalarmi. Poi è stato appena preso e, secondo me, magari se lo passo un attimo su una carta micromesh, insomma, qualche piccolo accorgimento per renderlo più scorrevole. No, perché lo trovo un po', insomma, perché quando ha un po' di attrito ci va perché io devo comunque indirizzare la mia forma, ok? Vedete come qua mi ha dato un po' di difformità, come piena di energia questa forma, no? Però è un po' troppo in questo caso qua, no? Ma sento un po', si sente anche proprio quando tiro le linee, si sente, no? Non posso parlare di un pattinamento ottimale, di una scorrevolezza estrema e quindi questo lo devo dire. Quindi, buon, questa breve prova, torniamo a un campo più aperto, diciamo che la promuovo, certo, non con un voto altissimo, ma perché più che altro è una penna che mi ricorda un po' tante cose, ha tutta una sua storia, no? Quindi ci sono anche delle affezioni, no? Sulle penne stilografiche e questa è una penna che sicuramente ha un suo appeal e ha tutto, ricordo una storia gloriosa, antica, quindi poi è chiaro che è una penna fatta adesso e quindi con qualche, insomma, piccolo problema che può esserci. Poi comunque non è una penna costosissima, ora non mi ricordo cosa pagai, ma era poco sotto i 200 euro, mi sembra di ricordare, quindi non siamo in un range di penna dove devo aspettarmi delle cose stratosferiche, però nel complesso io un voto 7 glielo darei comunque perché è ben realizzata, è una penna di sostanza e sostanzialmente la trovo anche sul lato del design, nonostante sia un design antico, vintage, però è molto molto bella, a me piace molto e quindi, insomma, l'avevo presa volentieri e comunque, insomma, il suo lavoro lo fa, anche se appunto non è flex e non ha quella scorrevolezza estrema, quella morbidezza di tratto che amo molto in alcune penne, ecco. Ok, e con questo vi saluto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta qui con me. Ciao a tutti, grazie. Grazie